Ragazzi, veloce recap sul mercato delle cripto, vediamo un po' che cosa è successo nelle ultime giornate di trading, noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao! E oggi da questo voglio cominciare ragazzi, dal grafico di Litecoin. Litecoin vedrà il 6 agosto il suo secondo halving. L'halving ragazzi è il momento in cui il premio dei miners di mezza. Litecoin già nel 2015, mi sembra luglio-giugno del 2015 affrontò il primo halving e passò dai 50 Litecoin come ricompensa per il mining ai 25, con questo del 6 agosto passeremo dai 25 Litecoin ai 12,5, 12,5 Litecoin. Quindi ogni volta un miner andrà a registrare un nodo sulla blockchain, otterrà esattamente la metà del Litecoin che otteneva prima. E quindi c'è un gran parlare adesso di Litecoin per due motivi. Uno, perché è stata praticamente la criptovaluta che ha avuto tra le top 10 cripto, quindi tra le criptovalute a maggiori capitalizzazioni e quella che ha avuto la crescita praticamente maggiore. Guardate, stavo guardando questa tabella su Coindesk che ci dà il YTD, vuol dire Year-to-date gains, quindi i guadagni da inizio anno, da inizio 2019. Guardate, in termini percentuali, Bitcoin ha fatto il 217%, Ethereum il 120%, Ripple praticamente fermo il 13%, Litecoin ha fatto il 305%, meglio di Litecoin solo BNB, solo Binance Coin che ha fatto il 481%, incredibili questi numeri ragazzi. Praticamente chi ha cominciato a crearsi il proprio portafoglio nel 2019, tutti i corsisti del mio corso sulle criptovalute che hanno iniziato il corso nel 2019, sono in enorme guadagno adesso, seguendo appunto le mie regole per la creazione di un portafoglio. Quindi veramente annata da ricordare, almeno questo primo inizio. Torniamo un attimo però sul grafico di Litecoin, che cosa ha fatto Litecoin? Litecoin cresce veramente da parecchio tempo, vedete, qui comincia il 2019, e stavamo il primo gennaio del 2019, ragazzi, stavamo a 31, come chiusura, 31,68 dollari, ok? Vedete che qui vi avevo segnato tutte queste linee, perché l'abbiamo commentato insieme, anche se era un po' che non lo vedevamo, vi avevo segnato queste linee che erano supporti importanti, e vedete che il prezzo come supporto dopo supporto, guardate qua, prima rottura del supporto, ritracciamento, e poi ancora, guardate qua, seconda rottura del supporto, e poi qui terza rottura del supporto, qui addirittura questo supporto a 78 dollari, nemmeno l'ha sentito, ha sentito invece il secondo a 100 dollari, guardate, qui, toccato i 100 dollari, è tornato indietro a 66, no, anche meno, a 65 dollari e 40, per poi fare di nuovo questo impulso rialzista, qui ai 107, poi è tornato indietro agli 84, nuovo impulso rialzista, 121, e poi ritracciamento, qui ragazzi è stato un bellissimo, guardate, ve lo faccio vedere, qui praticamente il prezzo ha proceduto per ABCD Pattern, guardate, questo, e poi ancora quest'ultimo qua, vedete come sono tutte quante simili queste salite con ritracciamenti, veramente, guardate, ve li traccio qua, primo ritracciamento, ha toccato lo 0,50, andiamoci a vedere il secondo ritracciamento, mi porto questa più su, anzi cancelliamola e ridisegniamola, solo per farvi vedere che i mercati poi non è che si muovono in maniera così randomica, guardate, secondo ritracciamento con lo spike della candela che tocca il 61,8, e ancora l'ultimo ritracciamento un po' più profondo che c'è stato, eccolo qui, guardate, le candele hanno chiuso poco sotto il 61,8 a 115,83, si sono andati ad appoggiare a questa, su questa struttura qui, il prezzo ha praticamente toccato i 145, ha sfiorato, ha baciato i 146, ed è poi tornato indietro qui, e adesso tutti si stanno chiedendo, dopo questa enorme salita, a un mese dall'Alvin, cosa succederà in questo mese? Il prezzo continuerà a salire e poi quello che vedremo è un drop? Allora, il primo ragionamento che viene da fare è dirsi, che cosa è successo in passato, nel 2015? Nel 2015, ragazzi, se andate a vedere il grafico, adesso non andrò a vederlo, o meglio, forse possiamo riuscirci in maniera più veloce, il grafico si è comportato in maniera totalmente diversa, non c'è affatto stata questa crescita, prima di aver visto, di essersi avvicinati all'Alvin, quindi secondo me i due momenti temporali non sono paragonabili, c'è stata anzi una profonda discesa, quindi questo è un momento completamente diverso, completamente nuovo, anche la market cap, ragazzi, guardate qua, la market cap è tornata abbondantemente sopra i 300 billion, siamo a 325, Litecoin è al quarto posto come crypto a maggiore capitalizzazione, Bitcoin è in un momento, adesso andiamo a vedere tra un attimo il grafico di Bitcoin, è in un momento ancora, per ora, in cui sta confermando il trend rialzista, l'impulso rialzista che ha creato in passato, quindi un momento completamente diverso, quello che secondo me potrebbe starci è quello che potremmo vedere in prossimità dell'Alvin, subito prima, subito dopo, non lo so, potremmo vedere monetizzare un po' di miner, ok, o di investitori, ci sta, ci starebbe, quindi magari potremmo vedere il prezzo di Litecoin, magari salire ancora un pochino per poi però scendere, ma semplicemente perché cominciano a chiudere delle posizioni e a capitalizzare i guadagni fatti, del resto, ripeto, Litecoin ha fatto più del 300%, chi è quel folle che non vorrebbe portarsi a casa il profitto fatto da inizio 2019? Io stesso lo farei, io non ho reinvestito nel 2019 su Litecoin, ce l'ho nel mio portafoglio di lungo termine e me la tengo, per ora me la tengo assolutamente lì ferma, e ovviamente questi non sono consigli finanziari, ragazzi, ognuno deve fare trading con la propria testa, andiamo a vedere BTC, Bitcoin cosa sta facendo, andiamola a vedere qua su Coinbase, allora siamo in un momento importante per Bitcoin, perché dopo questo ritracciamento qui, che è andata a toccare, è sceso con questi due spike, vedete, è sceso qua sotto i 10.000 dollari, qui ragazzi, quello che secondo me è successo in questa fase qua è stata che si sono andati a mangiare molti stop loss che stavano sotto i 10.000 dollari, vi ricorderete, io vi avevo detto che avevo stretto il mio stop loss, ho preso lo stop loss e sono uscito ovviamente in profitto, con circa il 50% di profitto, sono uscito sopra gli 11.000 dollari, gli 11.300 mi pare di ricordare, e il prezzo poi è risalito, tra l'altro chi mi segue su Instagram sa che cosa ho fatto, perché ne ho parlato recentemente su Instagram, ragazzi, se non mi seguite, questo è il mio canale, The 10 Minute Trader, potete seguirmi qua, qui do indicazioni anche più veloci, esattamente qua, questo è stato il momento in cui ho detto che stavo valutando un ingresso, quindi già sapete che probabilmente sono entrato in quest'area qui, non sono entrato sul bottom perché chi lo sa qual era il bottom qua, ho aspettato invece un primo segnale rialzista di inversione ed eccolo qua il segnale rialzista, diciamo che queste tre candele era uno candlestick pattern che mi ha detto, ok, quello poteva essere il bottom, e poi ho aspettato una conferma del segnale di inversione, quindi se mi seguite su Instagram avete, diciamo, informazioni più in tempo reale rispetto a Facebook, a YouTube, detto che non sono assolutamente consigli finanziari, e adesso vedete che il prezzo ha creato un po' questa base qua, questa base qua, che sta tenendo a 10.700 dollari, vedete c'è stato prima un impulso che ha sentito, avevamo segnato quest'area, per me questa era l'area di attenzione quando il prezzo è sceso, vi ricordate quando vi ho disegnato quest'area vi ho detto qui, i miei occhi sono su Bitcoin per cominciare a chiudere la posizione dopo questo grande impulso rialzista, infatti il prezzo è tornato con questo bel candelotto qui a baciare i 12.000, ma poi di nuovo è risceso, adesso vedremo nel weekend che cosa succede, per ora anche questa candela qui sotto è una candela che mi dà un altro segnale tecnico di possibile fine di questo impulso ribassista, tant'è che la candela di oggi è una candela positiva, adesso incontrerà di nuovo quest'area che va tra gli 11.500 e i 12.000 dollari, e per me il breakout di quest'area è fondamentale per capire che cosa proseguirà, quindi per ora ho veramente gli occhi puntati, la mia posizione su Bitcoin è aperta, ma ho degli stop loss molto molto stretti, perché come dico sempre, bisogna, quando si fa trading di breve termine, bisogna proteggere il proprio capitale, bisogna, quando si perde, perdere poco e quando si vince, vincere tanto, portarsi a casa e lasciar correre, cosa che ho fatto proprio in questo impulso qua, no? Mi sono portato a casa il 50%, qui adesso anche se dovessi prendere lo stop loss che è molto stretto e dovessi perdere qualche punto percentuale, il 3-4%, comunque avrei una portata a casa il 50% prima, no? Pensate quante volte posso ancora permettermi di perdere e rimanendo sempre in guadagno, e questo è il lavoro di un trading, questo è il position sizing e il risk management, è esattamente quello che fa un trader. Ragazzi, direi che per oggi è tutto, staremo a vedere cosa succederà nel weekend, grazie mille per l'attenzione, un like se questo video vi è piaciuto, un commento per dirmi qui sotto che ne pensate voi, a me e agli altri utenti che seguono il canale, che ne pensate voi di Litecoin e di Bitcoin nel breve periodo ovviamente, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!